L'Azzise è una pacifica cittadina sulle rive del lago di Garda, è stata scossa da un tragico evento che ha lasciato la comunità sotto sciocchi. Il 12 luglio un uomo di 46 anni ha coltellato mortalmente il proprio padre di 67 anni nella loro casa. La tragedia è avvenuta nell'abitazione del figlio dove i carabinieri e il magistrato di turno sono intervenuti prontamente per avviare le indagini. La dinamica dell'omicidio è ancora in fase di accertamento ma le prime informazioni suggeriscono che l'aggressione è avvenuta in un contesto familiare. Dopo il tragico gesso il figlio è stato portato in ospedale per accertamenti medici e in seguito condannato in caserma per ulteriori interrogatori. La notizia è rapidamente scosso la comunità di Lazzise lasciando amici, vicini e conoscenti increduli e profondamente sconvolti. In una cittadina dove episodi di violenza sono rari, un omicidio di tale gravità colpisce duramente il tessuto sociale.